. Intanto la showgirl ha portato il figlio Santiago a Disneyland Paris fra Belle Rodriguez e Andrea e Annone non è ancora scritta la parola fine. A rivelarlo è il settimanale chi, che ha anche immortalato la showgirl argentina, che ha portato in vacanza il figlio avuto da Stefano De Martino, il piccolo Santiago, quattro anni. Questa volta i due sono andati insieme a Disneyland Paris, hanno visitato tutte le attrazioni, emozionati, sicuramente il papà di Santiago, il ballerino Stefano De Martino, sarà molto contento della serenità del piccolo. I film continuano a sperare in un loro ritorno di fiamma, ma Belen da un anno e mezzo frequente il pilota di MotoGP Andrea e Annone. Tra i due, da qualche tempo si vocifera che ci sia una crisi, eppure continuano a essere fotografati insieme. E anche se Belen per il momento non vuole far prendere una piega seria al rapporto, i due continuano a stare insieme.